amici diamo un blan buongiorno sono nicole vignola sapete cosa si può fare a courmayeur si può ammirare il dente del gigante il dente del gigante al sol risplende così giusoe carducci più di cento anni fa celebrava una delle vette più leggendarie e iconiche del mondo e poi storie aneddoti emozioni sono state raccontate da chi da tutto il mondo affronta la sua emozionante scalata arrivando a courmayeur non potete non vederlo vi basta alzare gli occhi e contro il cielo appare evidente monolitico il dente del gigante la sua forma ricorda perfettamente quella di un dente e per di più la sua base è proprio conficcata in una gengiva nevosa il gigante naturalmente gargantua che dando disposizione delle varie parti del corpo dopo la sua morte lasciò un dente alla valle d'aosta da infiggere appunto tra i ghiacci del monte bianco e così in quella possente fortezza si ritrovano rinchiusi innumerevoli spiriti maligni tutti quelli che nei tempi più antichi imperversavano nella valle d'aosta a ripulirla dai geni cattivi provvide un mago giunto da lontano forse d'oriente commosso dal disagio della popolazione per i continui tiri dei folletti di ogni specie risalì allora tutta la vallata pronunciando misteriose parole e tutti gli esseri malvagi lo seguirono dentro la montagna dove furono rinchiusi per sempre oltre ad essere scenario di una bellissima favola per i più piccoli e anche per i più grandi il dente del gigante è sempre stato una meta ambita per gli alpinisti di tutto il mondo oggi la nuovissima funivia del monte bianco skyway vi porta fino a punta il bronner a 3466 metri da cui si gode la miglior vista sul dente del gigante ma se guardandolo sentite una specie di richiamo ad andare fin lassù beh il mio consiglio è lasciatevi tentare andate alla sede della società delle guide di curmaio e con il loro supporto potrete vivere emozioni indimenticabili la quota di arrivo è 4014 metri che richiedono sei ore di salita e quattro di discesa dal rifugio torino mi raccomando continuate a seguirci su questa pagina facebook per vivere la vostra vacanza al meglio arrivederci da nicole vignola per aimon blan tv grazie a tutti